Vi racconto una storia, una storia tragica, ma che finisce bene, perché anche le storie tragiche possono finire bene. Mi chiamo Liliana Segre e sono nata a Milano, nel 1930, in una famiglia ebrea. A causa delle crudeli leggi razziali, a 13 anni, fui caricata su un camion insieme al mio papà. E' portata via, destinazione Auschwitz. La mia amata città sembrava un fantasma e la cosa che mi feriva di più era vederla quasi indifferente al mio dolore. Trascorsi quasi due anni nel campo di sterminio, avevo perso il mio meraviglioso papà, diventai operaia, schiava e dovetti assistere al male in tutte le sue forme. Ma mi dicevo che dovevo resistere, stringere i denti, che sarebbe arrivato il giorno della liberazione. E quel giorno arrivò. Aprirono il cancello e noi ci trovammo fuori, a toccare l'erba, a strappare una foglia per mangiarla. Aveva un sapore meraviglioso, il sapore della clorofilla, della vita. Poi tornai a casa. Fu un viaggio lunghissimo. Era il 31 agosto 1945. Milano mi apparve all'improvviso e mi emozionò. Mi sentivo a casa. La mia città era stata bombardata in modo disastroso. Arrivai a casa dei miei zii e nonni materni. Dovevo essere felice. Ero scampata alla morte. Ma non fu così. I parenti ce la mettevano tutta per tirarmi su. Liliana, non essere triste. Tutto è passato, cara. Devi ricominciare a vivere. Sei libera ora. Non è meraviglioso? Cerca di dimenticare. Non pensare più al passato. Devi andare avanti, cara Liliana. Noi siamo qui con te. Siamo la tua famiglia. Sì, era passato. Era vero. Ma io mi sentivo profondamente diversa. Il carico di sofferenza che portavo dentro non si poteva cancellare automaticamente a guerra finita. Capì che le persone non volevano più sentir parlare di lager e sofferenza. C'era solo voglia di ricominciare. Soprattutto di dimenticare. Ma io non potevo. Ero immobile, bloccata anche nei miei sentimenti. Mi tormentava nei ricordi di Auschwitz. Dentro di me c'era un vuoto incolmabile. Ero diventato un animale ferito, selvatico. Ero scorbutica. Come se non fossi più me stessa. Senza identità. Ero uno zombie. Senza gioia di vivere. Ho perfino desiderato di morire. Ero tormentata dai ricordi. Me ne stavo sempre sola. Mi sentivo fuori da quel mondo. Di notte rivedevo le terribili scene al lager. Udivo le urla disperate dei condannati. Il pianto dei bambini strappati alle loro madri. Sentivo l'odore acre del fumo delle ceminiere. Avvertivo il freddo della neve sotto i miei piedi. Mi rendevo conto che non ero mai andata via da Auschwitz. Ero ancora prigioniera. Schiava nella mia baracca sgangherata. Non fu facile. Ma il tempo è una grande risorsa. Lo è davvero. L'amore dei miei parenti mi spinse a non mollare. Mi rimesi a studiare. E mi impegnai tantissimo. E poi conobbi mio marito Alfredo. Un uomo che mi ascoltò. E capì la mia sofferenza. E io ritrovai un po' di pace. Dopo la nascita di mio nipote Edoardo. Si mosse dentro di me qualcosa di potente. Di così umano. Che mi diede la spinta ad uscire dal silenzio. Ho sentito in quel momento. Che ero in grado di diventare una testimone di pace. La tua testimonianza ci ha fatto capire. Che bisogna combattere sempre il razzismo e la discriminazione. Io ho capito che tutti gli esseri umani hanno uguali diritti. Non disperderemo le tue parole. Saranno per noi un precioso esempio da seguire nella nostra crescita. Racconterò sempre la tua storia. Anche ai miei figli e ai miei nipoti. Perché io non voglio dimenticare. Noi bambini saremo le candele della memoria. Tu sei la nostra eroina. La nostra speranza. Cara Liliana, sei la dimostrazione. Che anche su un fiore viene calpestato. Puoi rialzare il capo. E godere della luce del sole. Per i ragazzi, sappiate coltivare sempre la pace e la speranza. Non perdetevi d'animo di fronte alle difficoltà. Non dite mai che non ce la potete fare. Se ce l'ho fatta io, ce la farete pure voi. Ognuno di voi è fortissimo. E ricordate, dovete camminare nella vita. Una gamba davanti all'altra. Sempre. La marcia che vi aspetta sia la marcia della vita. Dopo 45 anni di silenzio sull'orrore vissuto, Liliana Segre decise che doveva parlare a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze, i suoi nipoti ideali. Ha raccontato l'orrore della Shoah per contrastare il razzismo e tramandare la memoria. Dal 1990 è diventato testimone della Shoah. Da allora ha ricordato e rivissuto il proprio dolore migliaia di volte per seminare la speranza di un mondo diverso. Soprattutto per dare voce a quei tanti che non sono più tornati dai campi di sterminio, uccisi per la sola colpa di essere nati. Loro che non hanno una tomba, che sono cenere nel vento. Loro che non hanno una tomba, che non sono più tornati dai campi di sterminio, che non hanno una tomba, che non sono più tornati dai campi di sterminio. Loro che non hanno una tomba, che non hanno una tomba, che non hanno una tomba, che non sono più tornati dai campi di sterminio. verecibile revisione a cura di QTSS Grazie.